Benvenuto nel Cilento e al Capaccio Pestum. Senta, qual è la sua sensazione? Ci stiamo finalmente liberando di questo terribile virus o dobbiamo attendere la tanto temuta ondata di ritorno? I numeri stanno andando nella direzione che noi ci auguravamo e quindi speravamo. Quindi ieri c'è stato il contagio zero, non so stasera, ma comunque sono numeri molto bassi. Ma è chiaro che dobbiamo fare attenzione. Ora in genere io dico meglio agitarsi nel dubbio che riposare nell'errore. Quindi siamo stati colti di sorpresa quando è arrivato e quindi è importante in questo momento essere preparati. Poi non ci sarà, meglio, ecco, anche in questo caso è cauto ottimismo. I tempi per il vaccino? I tempi per il vaccino non sono brevi, sono lunghi. Noi inizieremo la sperimentazione a novembre. In questo momento stiamo ultimando gli esperimenti sull'animale. Il vaccino è molto promettente, tra l'altro è un vaccino a DNA. È chiaro che inizia a novembre la fase 1-2, dopodiché si concluderà più o meno intorno maggio e poi deve iniziare la fase 3. Quindi per dirvi di come, anche se i risultati saranno positivi, non arriveranno prima dell'estate dell'anno prossimo e poi c'è la produzione. che è un altro, quindi tempi lunghi. Il via l'obbligo della maschera nel 22 giugno sia una scelta giusta e poi per questo obbligo vaccinale, antinfluenzale, De Luca ha parlato di una vaccinazione a tappeto, qual è la sua impressione? Come dicevo prima, i numeri stanno andando nella direzione giusta, quindi diciamo il 22 giugno è ancora tra qualche giorno, sono convinto che i numeri rimarranno tali, quindi tutto sommato anche in questo caso la decisione è una decisione che ci sta. Per quanto riguarda il discorso della vaccinazione antinfluenzale, ci sono delle evidenze che vengono da delle analisi fatte nei pazienti che si erano vaccinati di come questo possa aiutare. Ecco una domanda, il farmaco ormai noto come cura a scerto proprio ha ridotto la mortalità del ben 22%, devo dire un dato più che confortante ed è stato anche sottolineato ovviamente dal governatore De Luca che ha esordito dicendo la cura a scerto è davvero una certezza. Beh, sappiamo che questo trattamento ormai è una cosa certa, vero, è una certezza e quindi è qualcosa che ci può aiutare qualora ci dovesse essere una seconda ondata. Devo dire che siamo molto più preparati rispetto a quando è successo il tutto nei periodi di marzo-aprile, quindi tocilizzo ma anche gli altri trattamenti che sono stati fatti in questo momento sono collodati e quindi decisamente abbiamo più armi a disposizione. Teniamo presente che ci sono trattamenti e farmaci per le diverse fasi dell'infezione quindi il tocilizumab è un trattamento per la complicanza così come ci sono anche altri farmaci per la complicanza. Poi ci sono gli antivirali che sono importanti, al momento non ne abbiamo c'è il rendesivir che ha dimostrato di dare qualche risultato importante non come ci aspettavamo però può essere anche questa una possibilità e poi c'è il discorso dei vaccini per prevenire. Insomma tutto in questo momento è utile nei confronti di questa infezione.